fratelli e radiori amici di facebook e instagram buongiorno a tutti ragazzi un saluto a tutti gli iscritti al canale buon venerdì e buon inizio di weekend un weekend molto piovoso e uggioso al nord a milano sicuramente ragazzi da ieri sera ha cominciato oggi si sente si sente mette pure sonno mette il tempo così quindi fino a domenica previsto questo tempo del cazzo oggi vigilia vigilia di roma inter vigilia di roma inter e ogni giorno viene fuori qualcuno che che le spara adesso c'è 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 il buon caressa che quasi innervosito dice sì adesso è considerato un dio in zaghi ma ma fino a un anno fa era era lì che lo volevano mandare via tutti non va giusta cosa qui è vero tutti io no sinceramente io prima di inter barcelona ho detto dobbiamo capire se lo spogliatoio con lui se lo spogliatoio non è con lui sono il primo a dire finita ma lo spogliatoio aveva dimostrato che era con lui poi gli errori dei giocatori gli errori suoi sono venute fuori con le 12 sconfitte di merda però dopo si sono ricompattati finalmente abbiamo visto un finale di stagione strepitoso quindi c'è caressa da una parte zacquaroni dall'altra con gli occhi che si illuminano come la coreografia sabatini sabatini che parla fondamentalmente di culo abbiamo avuto culo perché per una serie di vicissitudini siamo ritrovati dei giocatori insomma che non lo so io sta cosa la dico ormai da otto anni perché otto anni fa no perché non si vinceva una minchia però qualsiasi cosa faceva l'inter allora andiamo indietro di sei anni tipo le prime qualificazioni cioè ma all'ultima giornata è ma è ma mai i meriti ma i meriti di un inter che si stava ricostruendo da spalletti poi arrivato conte al primo anno secondo posto una finale d'europa league e ma non l'è vinto capito ma dopo anni e anni di merda per noi era già tanto almeno per me per quanto mi riguarda e così via tutti gli altri trofei perché se una supercoppa la vince il milan e capito o la juve diventa una coppa della madonna poi ci dicono ma festeggia cazzo voi le avete festeggi sono le foto le immagini e io mi ricordo montella portato in trionfo per una qualificazione in europa ligo e che cazzo stiamo parlando quindi il problema poi fondamentalmente quello e quindi non si danno i meriti quindi non si dà i meriti a un grande lavoro non solo di tutti di tutti quando si viaggia così il lavoro non è solo del mister il lavoro di quelli che dei giocatori in primis che scendono loro in campo mister società e fino all'ultimo del magazziniere tutta una squadra compatta e tutta una catena di montaggio che deve andare come si deve quindi sabatini dice che abbiamo avuto culo insomma fatto addirittura l'esempio di tacco dall'aio io ero piccolo però io l'ho studiato del trappo me lo sono visto allo stadio con papà non dico tutte ma quasi tutte le partite casalinghe e soprattutto inter napoli ero sotto la curva sud piena di napoletani io il gol di careca e i nostri due gol me li sono visti proprio lì ero al primo anello blu e quindi addirittura andare indietro a mager che non arrivò e ci troviamo diaz ma diaz la prima parte di campionato ha fatto pietà l'inter era lì per per mandarlo via se vi ricordate dopo è esploso ramon diaz per la questione turam la question turam comunque l'inter l'aveva già preso l'inter indipendentemente se l'ex 90 rimaneva o no l'aveva già preso e aveva già messo una clausola di 90 milioni quindi vuol dire crederci vuol dire avere culo perché l'inter due anni fa prima di portare il grigliatore folle era su di lui se non si infortunava l'avrebbe già preso due anni fa non è proprio culo c'è la no glu c'è la no glu e culo diceva si è trovato da il vi no semplicemente bravo in zaghi bravissimo c'è la no glu che sicuramente non nasceva in quel ruolo poi ci vuole la complicità e la bravura di entrambi invece no è culo è culo no l'inter è forte però c'è sempre un però c'è questa è questo è quello che sto vedendo cioè giorno dopo giorno quello che parla di là quello che parla di là è tutto così è tutto così è tutto un andare contro l'inter e non riconoscere i meriti di una squadra che momentaneamente lì e merita di stare lì quindi roma inter ragazzi roma inter vigilia appunto questa roma nuova di daniele de rossi io non so bene se ha cambiato schema se ha cambiato la difesa so che viene da tre vittorie di fila e bisogna vedere anche gli avversari e mi sembra di aver capito che boh forse una delle tre o due su tre non lo so avesse anche un po un po rischiato insomma forse col vero non mi ricordo comunque forse era la prima di de rossi tant'è che ha fatto nove punti con con squadre che insomma sono lì in classifica adesso la prova del 9 sarà in casa contro di noi però a livello mentale nove punti ti hanno fatto riavvicinare lì perché loro puntano ovviamente a entrare in champions e quindi è una roma bella carica mentalmente ho sentito dire perché non l'ho vista sento dire che una roma meno e questo mi fa piacere perché io sono tre anni che la contesto ma non perché murigno perché sono invidioso no perché ho visto una roma da partire dall'allenatore dall'ultimo dei dirigenti compresi giocatori che ogni volta la buttavano in cacciare in cagnara sembrerebbe che questa cosa qui sia cambiata mi fa piacere perché apprezzo di più gioco del calcio non ha ogni cosa rottura di coglioni cioè il cinema hanno fatto in quasi tre anni quindi è una roma che rispetto all'andata a un dibale in più ora non mi ricordo comunque dibala c'è perché l'andata non c'era è un dibala che fa la differenza nella roma che quando manca si sente c'è poco da fare cioè dibale dibala ragazzi io lo sapete che sono in amore l'ho sempre detto magari la madonna lo prendessimo ero lì lì che speravo dibala il calcio e quando sta bene dibala sono cazzi non ti dà punti di riferimento e quindi è una partita no tosta di più un campo tosto uno stadio bello pieno pieno e questo è merito di giusè murigno perché si è tornato a 65 mila spettatori 70 mila grazie a giusè murigno che comunque in europa ha portato un trofeo e una finale tanti saranno i nostri perché sicuramente sarà tutto il settore strapieno però c'è l'ex 90 l'ex 90 che mi è venuto in mente quando ho letto la cosa del rispetto il rispetto si aspetta che cazzo ho scritto mi è venuto in mente rocky in rocky 5 quando gli dice a quel deficiente o il rispetto vintelo a prendere ecco questo dovrebbe dirgli qualcuno dei nostri o il rispetto vintelo a prendere come provato a farlo all'andata vediamo se riesce a ritorno quindi spero che che non faccia un cazzo come l'andata ecco perché lui che parla di rispetto veramente cioè lui che parla di rispetto è come maggiolio che parla di patatine insomma dai non è che proprio quindi vedremo 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 cosa succede vedremo cosa succede c'è milan napoli ho visto la juve ma come mai noi giochiamo di sabato alle 6 noi abbiamo giocato insieme alla juve giusto come va noi giochiamo di sabato alle 6 e loro giocano di lunedì alle 20 e 45 calendario il calendario oh non sta più dicendo niente nessuno eh guarda guarda caso tutto quel cazzo di calendario che abbiamo noi più questa roba qui strano cioè fateci giocare anche a noi di domenica un giorno in più di riposo no noi sabato che andiamo all'olimpico con la roma hai capito loro due giorni dopo perché insomma con l'udinese in casa stai scherzando quindi ma il calendario a sto giro non ne parla nessuno ne parla lo diciamo noi lo diciamo visto che ci hanno sfrucognato la minchia per tutto il giro dell'andata e formazione penso stratitolare dovrebbe partire da armiana posto di denzel però sarebbe ripronto quindi ci vuole la migliore inter perché è tosta 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 c'è gente che dice sì anche un pareggio per com'è andata poi sai abbiamo la partita in meno né nel senso noi si va per vincere poi si arriva un pareggio ma dobbiamo fare di tutto per vincere ci vuole ci vuole l'inter schiacciassassi perché comunque giocare prima di loro e ipoteticamente andare a più sette con una partita in meno insomma sarebbe un altro ennesimo bel segnale quindi fare di tutto per vincere poi se dovesse arrivare una sconfitta che per amore di dio ragazzi non è che non c'è scritto nessuna parte che da qui alla fine le vinciamo tutte quindi c'è anche sempre l'avversario davanti quindi saremo a vedere mi auguro che sia una bella partita ecco perché gli ultimi inter roma e roma inter con la roma di murigno insomma qui mi sembra che che sia anche un po più è un po più all'attacco così ho sentito dire perché poi ho anche amici amici giù a roma quindi vedremo vedremo ragazzi ci aggiorniamo domani per il giorno del football video post partita faccio giusto giusto in tempo tornare a casa per le sei meno male che giochiamo alle tre con i ragazzi quindi facciamo in tempo anche a vedere la vi reaction e quant'altro va bene condivisione dei video iscriviti al canale sempre forza inter e in tuo culo a tutti quegli ossessionati che ogni giorno parlano e devono rompere le palle alla nostra cara e vecchia inter ciao